Grazie Salvatore. Buongiorno a tutti, ringrazio intanto il comitato direttivo per l'invito e faccio subito il disclaimer riguardo l'assenza di interessi personali economici relativamente a prodotti o metodi che sono trattati in questa relazione. Comincio con l'ortocheratologia e controllo della miopia. Questi grafici vengono dal primo lavoro nel 2005 che ha mostrato scientificamente una relazione tra ortocheratologia notturna e controllo della miopia. Il lavoro terminava, non mi soffermo molto su questi lavori perché l'argomento è collegato ma come vedremo è un po' diverso. E poi c'è un altro relatore che mi segue che parlerà abbondantemente di questo argomento, meglio di quello che posso fare io ora. La conclusione di questo, mi interessa sottolineare questo aspetto, la conclusione di questo lavoro diceva che i genitori possono considerare l'ortocheratologia come un'opzione per rallentare la progressione miopica nei loro figli. Questo già nel 2005, un messaggio che è stato poco, credo, raccolto e divulgato. Da allora sono stati fatti moltissimi lavori che io, ripeto, non prenderò in esame, vi faccio vedere qualcosa molto rapidamente. Questo per esempio è un lavoro del 2011, uno studio randomizzato, come vedete 105 bambini, 45 corretti, 60 come gruppo di controllo, corretti con occhiali. Quindi si vedono lì i valori della lunghezza assiale nei due gruppi, da questi risultati si evince come, ancora una volta, il trattamento ortocheratologico rallenti la progressione miopica. Anche qui le conclusioni sono quelle indicate qui in giallo, l'ortocheratologia riduce l'allungamento assiale nei bambini miopi, suggerendo che questo trattamento possa essere utilizzato per controllare la miopia. Ci sono anche altri tipi di studi, non solo quelli prospettici come quello precedente, ma alcuni studi sono anche studi retrospettivi. Che cosa significa? Il studio retrospettivo prende in esame soggetti già trattati. È uno studio fatto a posteriori, quindi si prendono i soggetti trattati, per esempio, in uno studio optometrico e si vede che cosa è successo negli anni precedenti. Lo studio randomizzato prospettico è quello che invece prende dei soggetti, li sottopone a un protocollo e vede che cosa succede nel tempo. Sono due cose diverse. Negli studi retrospettivi, che dal punto di vista scientifico forse sono considerati un gradino al di sotto di quelli prospettici randomizzati, negli studi retrospettivi secondo me c'è un grosso vantaggio, un aspetto molto positivo, e cioè che sono soggetti che hanno scelto di fare quel trattamento. Sono soggetti reali, non dico che gli altri non sono soggetti reali, ma l'impostazione è diversa. E anche i risultati sono un po' diversi, proprio perché qui c'è stata una selezione. Infatti, in questo studio, sette anni di trattamento di ortocheratologia, come vedete, il contenimento della miopia risulta essere addirittura, la riduzione della progressione miopica risulta essere addirittura dell'80%. Quindi è un valore molto, molto elevato. Anche noi a Vinci abbiamo fatto studi di questo tipo, uno in particolare su sei anni, 35 soggetti trattati. La differenza rispetto allo studio precedente è che qui erano 34 trattati, erano bambini da 8 a 13 anni, i nostri erano 35 soggetti da 8 fino a oltre 40 anni, quindi non è un gruppo di età così ristretta e significativa come lo studio precedente. In ogni caso, questi sono i dati del gruppo globale. Come vedete, l'aumento della miopia nel gruppo trattato è stato di 0,16 di otrie. Nel gruppo di controllo, stessi bambini, non gli stessi bambini, 35 bambini, mecciati per età e miopia, meno 2 e 43. La riduzione è addirittura del 93%. Però qui, ripeto, sono soggetti che vanno da 8 a 42, mi pare, adesso comunque oltre i 40 anni. Se prendiamo i 13 soggetti bambini da 8 a 13 anni, le cose vanno un po' diversamente, la miopia aumenta un po' di più, 0,38 nel gruppo sperimentale, ma meno 3,88 nel gruppo di controllo. E la riduzione della progressione è comunque del 90%, una riduzione molto alta. Ma la domanda è perché l'ortochiratologia funziona? Qualcuno ne ha già parlato ieri, quindi non mi dilungo. Si pensa, o comunque si discute, riguardo il fatto che il motivo per cui l'ortochiratologia fa aumentare di meno la miopia in un soggetto che sia già diventato miope, quindi si sta parlando di progressione e non di insorgenza della miopia, possa essere la miopizzazione periferica indotta dal trattamento ortochiratologico. Vedete nel grafico, in questo grafico, come l'effetto della correzione degli occhiali, che compensa la miopia nella zona centrale, ma a causa della curvatura di campo crea una ipermetropia periferica, cosa che non succede con l'ortochiratologia. Questo anello, l'anello, il ginocchio molto curvo che si crea tra le due zone di appoggio, quella centrale e quella periferica, crea sulla retina un anello miopico, ovviamente. E questo si pensa sia la causa per cui la miopia aumenta di meno. In effetti, che questo avvenga sulla retina, qui c'è un lavoro che ha evidenziato questo aspetto, e come vedete qui si dice come al centro, con l'ortochiratologia, nella zona centrale retinica, si abbia una correzione della miopia, ma oltre i 25 gradi del campo visivo si ha un shift miopico, quindi una miopizzazione evidente, e questo appunto sarebbe l'effetto dell'ortochiratologia sulla progressione della miopia. Ma allora la domanda che dovrebbe venire spontanea, credo, è questa. Perché non cercare di ottenere lo stesso effetto con le lenti morbide? morbide, morbide e progressivo, centro-lontano. Perché ovviamente nelle morbide e progressive centro-lontano abbiamo una situazione abbastanza simile, una zona centrale corretta, con la miopia corretta, una zona periferica, medio-periferica, in cui c'è l'addizione e quindi questo provoca una miopizzazione nella parte paracentrale o paraperiferica, che dir si voglia. E in effetti sono state utilizzate, ci sono moltissimi lavori, ancora una volta io non vi presento molti lavori, io vi presenterò dei dati sperimentali che abbiamo raccolto all'IRSO su questo argomento. Però vi voglio far vedere questo perché è uno studio, diciamo, ben fatto, sono 40 partecipanti, come vedete 27 solamente hanno portato a termine il lavoro. Diciamo che quello che c'è da sottolineare sono due cose. Primo, il fatto che è stata utilizzata una lente commerciale, una lente che è in uso normalmente per la correzione della presbiopia, non finalizzata a questo scopo, allo scopo di contenimento della miopia. Quindi era una lente con l'addizione di più due, una cooper vision, multifocal, center distance. E l'altro aspetto che voglio sottolineare è che il risultato è stato che abbiamo avuto un 50, cioè abbiamo avuto, chi ha fatto questo, in questo studio si è avuto un 50% di riduzione della progressione miopica. Non sono i numeri che abbiamo visto con l'ortocheratologia, quindi sono un po' più bassi, però comunque il risultato, direi, è notevole. Allora l'idea è, ma queste lenti danno un profilo refrattivo simile a quello dell'ortocheratologia oppure no? Cioè l'effetto che queste lenti hanno è dovuto veramente alla miopizzazione periferica o potrebbe essere dovuto ad altri fattori. Queste lenti danno un profilo che è paragonabile a quello di un trattamento ortocheratologico? Oppure no? Allora questo è il setting che noi abbiamo nel laboratorio a Vinci e c'è un arco che vedete qua giù in fondo a questa stanza, un arco con un raggio di 3 metri, al centro di questo raggio è posto l'autorefrattometro a campo aperto, su questo arco c'è un ototipo che si muove dal centro verso la periferia, destra e sinistra o di 5, 10 gradi, lo possiamo muovere di quanto vogliamo, il paziente segue la mira fissa quindi lateralmente e centricamente e con l'autorefrattometro misuriamo la refrazione al centro e poi via via varie angolazioni fino ad un'angolazione massima di 30 gradi. Questi lavori sono cominciati, il setting è stato preparato nel 2014, quindi sono già diversi anni, sono già più di tre anni che lavoriamo su questi temi. Abbiamo misurato la refrazione periferica in visione naturale, con gli occhiali e con diverse lenti. Abbiamo preso le tre lenti, sono tutte e tre della Cooper Vision con il centro lontano, più 2,50, più 3, più 3,50. E poi abbiamo misurato, abbiamo fatto il profilo refrattivo periferico e poi a questi stessi pazienti è stato fatto il trattamento ortokeratologico e dopo un mese di trattamento abbiamo rifatto le misure e quindi ridisegnato il profilo periferico. Questi sono i risultati, allora lasciamo perdere queste qua su, queste qua su sono le curve degli occhiali, delle lenti monofocali, vediamo le lenti multifocali, sono queste, vedete 2,50, 3,350, sono queste tre. Come vedete c'è una miopizzazione periferica effettivamente, in dubbio. C'è solo in un versante, nel versante tempiale, in quello nasale sembra che non ci sia, questo è un aspetto da controllare e da approfondire. Io credo che dipenda dal fatto che la lente multifocale non sta perfettamente centrata ma si muove lateralmente dovuta alla differenza di profondità sagittale che c'è tra la parte nasale e la parte tempiale dell'occhio, perché c'è una differenza, l'occhio è ruotato in qualche modo, quindi la profondità sagittale non è uniforme tutto intorno all'imbus. Ma se io adesso ci metto sopra la curva dell'ortokeratologia, che cosa viene fuori? Eccola qua. Questo è il profilo periferico degli stessi pazienti dopo trattamento di orto-keratologia. Come si vede la miopizzazione è molto più accentuata. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato anche, abbiamo fatto un'altra misurazione, abbiamo utilizzato non in tutti i pazienti, in tre pazienti, tre soggetti di quelli precedenti, abbiamo utilizzato una lente con un'addizione, una lente che non è sul mercato, un design proprietario, che ha un'addizione superiore a 3,50. Questa qui aveva anche più di quattro diotrie. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che questa lente dà, come vedete, questa è la lente di superiore a 3,50, dà effettivamente una miopizzazione molto più accentuata. E se ci metto la curva sempre dei tre pazienti riferita al trattamento orto-keratologico, eccola qua, vedete, nella parte tempiale si sovrappone perfettamente. Nella parte nasale, come vi dicevo, nell'orto-keratologia abbiamo la miopizzazione, con le altre lenti sembra che ci sia appunto un difetto di miopizzazione, probabilmente dovuto allo spostamento della lente. Quindi le conclusioni che possiamo trarre, quali possono essere? L'orto-keratologia provoca una miopizzazione periferica che può spiegare, secondo molti autori, può spiegare la riduzione della progressione. Le lenti multifocali centro-lontano ugualmente provocano una miopizzazione periferica, anche con queste si ha una riduzione della progressione miopica, ma si ha un effetto in qualche modo inferiore. Si può ipotizzare che per avere una miopizzazione, che per avere un controllo sulla miopia, come quello dell'orto-keratologia, così elevato abbiamo visto l'80-90% di riduzione della progressione miopica, con le lenti a contatto multifocali o disegnate apposta per questo scopo, naturalmente, si debba ottenere un profilo periferico uguale a quello dell'orto-keratologia. Se vogliamo ottenere questo, l'addizione deve essere superiore a 3,50% e dovrà probabilmente anche essere customizzata, cioè fatta su misura, probabilmente per i diversi pazienti. Se noi avessimo delle lenti progressive che rallentassero la miopia fino all'80%, sicuramente questo rivoluzionerebbe, a mio parere, rivoluzionerebbe completamente il mercato delle lenti a contatto morbide. Attualmente gli studi che sono in corso a Vinci sono rivolti a studiare queste lenti, soprattutto a studiare il profilo retinico periferico e anche a valutare il rendimento visivo che si ha con queste lenti, perché non dimentichiamo che quando aumentiamo l'addizione, ovviamente, possiamo ottenere anche qualche effetto negativo o, diciamo, non, come dire, non idoneo per la visione, non proprio ricercato, direi, anzi. I risultati li vedremo al prossimo congresso, se ritornate. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie.